Abbiamo raggiunto il terzo posto, ora siamo davvero fiduciosi per affrontare il finale di campionato, ovvero i play-off, con grande entusiasmo e morale alle stelle. Così Daniele Celiento, difensore del Catanzaro, è intervenuto nella trasmissione sportiva RTC Catanzaro Sport in onda su RTC Telecalabria e Calabria Channel. Diciamo che non ci aspettavamo i primi dieci minuti, purtroppo è capitato di andare sotto e anche di tre golle, di due golle anzi, e abbiamo avuto una grossa reazione spinti dal pubblico che ci ha dato sicuramente una mano importante per ribaltare questa partita che da come era iniziata non era affatto semplice. E diciamo che questo che è capitato forse ci può servire da esperienza, perché i primi dieci minuti così non li abbiamo mai fatti. Subire tre gol nei primi dieci minuti è davvero dura, però poi diciamo che con la nostra bravura siamo riusciti a ribaltare tutto. Abbiamo raccolto l'invito del presidente noto che vuole a tutti i costi andare in Serie B, ha detto Celiento. Noi abbiamo il suo stesso obiettivo e faremo di tutto per accontentarlo. Come ho già detto in passato, io credo che nell'arco di una stagione ci possono essere tanti momenti che siano positivi, che siano negativi. Abbiamo attraversato un periodo no, diciamo che è stato lampante, abbiamo subito tre sconfitte di fila, non ci voleva, però purtroppo in un campionato può capitare. Abbiamo reagito perché comunque abbiamo reagito e ora siamo pronti per affrontare questi play-off, questa è la cosa principale che siamo carichi adesso.